Buongiorno ragazzi, eccoci al video sugli esercizi delle derivate. Oggi vedremo diversi esercizi partendo dalle derivate più semplici fino alle derivate un pochino più complesse e affronteremo e ripasseremo le varie regole di derivazione che abbiamo visto nei video precedenti. Qui per esempio nel primo esercizio vediamo la regola della somma e della differenza, quindi prendiamo una funzione da derivare di un uguale a 4x alla terza meno 1 fratto x quadro più radice di x e applichiamo le varie formule per ottenere la funzione derivata. Ricordiamoci che 1 fratto x2 può essere visto come x alla meno 2 e la radice di x può essere a sua volta vista come potenza di x ed esattamente come x elevato alla un mezzo. Quindi per derivare questa somma a differenza di monomi basta usare x alla n, la formula della derivata di x alla n, quindi verrà 12x al quadrato meno, tra parentesi, meno 2x alla meno 3, butto giù l'esponente e poi abbasso di 1 l'esponente in alto, più un mezzo per x elevato alla un mezzo meno 1. Facendo i conti ottengo quindi 12x al quadrato più 2 fratto x alla terza più 1 fratto 2 radice di x. Vediamo ora un secondo esercizio dove dobbiamo applicare la regola del prodotto, quindi la nostra funzione è data dal prodotto di due funzioni, tra l'altro composte, perché questa è coseno di x al quadrato più 4, quindi abbiamo da derivare prima il coseno e poi il suo argomento, aggiungiamo infatti composte. Per l'esponenziale è elevato alla 2x meno 4, la derivata quindi sarà data da la derivata del coseno, quindi meno seno e riscrivo l'argomento x quadrato più 4 per la derivata dell'argomento 2x. Tutto questo è la derivata del coseno di x quadrato più 4. Moltiplichiamola per l'esponenziale lasciata stare, più riscriviamo il coseno con il suo argomento e adesso deriviamo l'esponenziale. La prima parte rimane se stessa, ma poi devo derivare quello che lei ha in testa, il suo esponente, quindi per 2. Quella, tra parentesi viola, è la derivata della seconda parte della funzione, del secondo membro della funzione. Andiamo a vedere adesso un altro esercizio utilizzando invece la regola del quoziente e anche magari del prodotto insieme. Vediamo. La funzione che dobbiamo derivare ha a numeratore un prodotto ed è una frazione. La prima cosa che vediamo dopo l'uguale è la frazione, quindi partiamo subito con la regola di derivazione della frazione. Quando poi dovremo derivare il numeratore affronteremo il fatto che a numeratore ci sia un prodotto. Quindi a numeratore ci troviamo derivata del prodotto 6x per il seno, così com'è, più riscrivo 3x quadro e derivo il seno, cioè coseno di x. Tra parentesi quadre quindi c'è la derivata del numeratore. Moltiplico per il denominatore lasciato stare 4x alla terza meno x, meno, riscrivo il mio prodotto del numeratore e poi moltiplico per l'ultima parentesi per la derivata del denominatore, quindi 12x2 meno 1 il tutto fratto il nostro denominatore, 4x alla terza meno x al quadrato, non meno 1, ragazzi, meno x. Adesso vediamo un esempio di una funzione composta un pochino più complessa, dove abbiamo diversi passaggi da fare. La cosa più importante da vedere in questa derivata è qual è la prima cosa che devo derivare. Subito dopo l'uguale io inciampo sul seno, quindi mi verrebbe da derivare per prima cosa il seno, ma quel quadrato sopra il seno mi trae un po' in inganno, perché se io la riscrivo in questo modo, io vedo che il quadrato sopra il seno è sì una scrittura che semplifica un attimo, ma rappresenta questa scrittura. È tutto elevato al quadrato. In questo modo mi rendo conto che prima di arrivare al seno ho una parentesi, quindi la prima cosa che devo derivare è proprio l'esponente, quindi alla n il mio 2 in alto. Scriviamo i vari passaggi da fare. Il primo è derivare l'esponente 2, poi dovrò derivare il seno, poi dovrò derivare il logaritmo, la radice e poi il prodotto che si trova sotto la radice. Abbiamo quindi cinque passaggi, mi aspetto una catena di prodotti formata da cinque fattori. Adesso iniziamo, quindi primo passaggio derivare l'esponente 2, quindi butto giù il 2, riscrivo tutto così com'è, il seno del logaritmo, la radice e quello che c'è sotto, elevato in teoria alla 1. Dopodiché parto, in questo modo quindi ho fatto fuori, mettiamoci una croce, il mio primo passaggio, moltiplico per la derivata del seno, quindi coseno del logaritmo della radice di x2 per e alla x. E con questo secondo fattore ho derivato il seno. Adesso ci tocca fare il logaritmo, quindi viene 1 fratto l'argomento del logaritmo, che è la radice, con tutto ciò che si trova sotto, x quadro per e alla x. E con questo terzo fattore ho derivato il logaritmo. Ora abbiamo la radice, quindi è 1 fratto 2 per la radice di tutto quello che c'è sotto, che è il mio prodotto. E con questo quarto fattore ho derivato la radice. Adesso deriviamo quel prodotto, quindi apriamo una parentesi quadra e deriviamo prima il primo 2x per l'esponenziale lasciata stare, più riscriviamo x quadro e moltiplichiamo per e alla x. Con quest'ultima parentesi quadra abbiamo derivato il quinto passaggio, abbiamo finito la nostra catena. La derivata che stiamo per affrontare adesso, come quinto esercizio, è stata data durante un esame orale a uno dei miei ragazzi. Era una catena di logaritmi, ma non è un prodotto, ragazzi, è il logaritmo del logaritmo del logaritmo e poi finalmente compare l'argomento. Anche qui dividiamo e vediamo bene di quante funzioni è composta la mia funzione. Di un logaritmo, due logaritmi, tre logaritmi e poi c'è l'argomento. È una funzione composta, non sono prodotti, quindi parto a derivare il primo, quindi uno fratto l'argomento e quindi è il logaritmo del logaritmo dell'argomento e con questo ho fatto fuori il primo. Per, derivo il secondo logaritmo, quindi uno fratto il logaritmo dell'argomento, 3x quadro meno 4x e con questo ho derivato il secondo logaritmo. Per, derivo il terzo logaritmo, uno fratto il suo argomento, quindi 3x al quadrato meno 4x e finalmente derivo, facciamo fuori il terzo, derivo l'argomento, quindi viene 6x meno 4. Eccolo qua, ragazzi, fatto fuori anche il quarto. Vediamo invece ora un altro esercizio, facciamone ancora due o tre e quello che vediamo adesso invece è un logaritmo su due piani, il suo argomento è su due piani e vediamo questo di metterlo un pochino a posto. Negli esercizi precedenti abbiamo visto solo la catena di moltiplicazioni e solo i primi passaggi della derivata, non l'abbiamo sistemata. Qui sistemiamola anche un pochino. Allora, abbiamo un logaritmo, quindi io dovrei fare uno fratto la mia frazione. Ci siamo che io posso ribaltare questa frazione? Così evito di avere tre piani dopo l'uguale? Allora mi verrà 2x meno 1 fratto 2x più 1 che moltiplica la derivata dell'argomento del logaritmo che è una frazione, quindi avrò 2 che moltiplica il denominatore 2x meno 1 meno, riscrivo il numeratore 2x più 1 per derivo il denominatore 2, tutto fratto il denominatore al quadrato. 1 si può semplificare, qui è un quadrato sotto, facendo i conti a denominatore mi rimane quindi 4x quadro meno 1 e a numeratore vanno via le x e mi rimane un meno 4. Ancora un esercizio, vediamo una funzione elevata a un'altra funzione, quindi abbiamo un x meno 2x alla terza tutto elevato a un 4x più 1. Ricordiamoci che per derivare questa funzione non devo far altro che ricordarmi di aggiungere questa quantità davanti come se fosse una nuova funzione, quindi metto la mia x meno 2x alla terza elevata a 4x più 1 come argomento del logaritmo tutto in testa l'esponenziale. Quell'esponente lì poi per la proprietà dei logaritmi lo butto davanti, riscriviamo e quindi abbiamo un esponenziale che ha in testa un prodotto. Questo lo so derivare senza nessuna formula nuova. Quindi viene y primo uguale, la derivata dell'esponenziale, riscrivo tutto così com'è perché la derivata è alla x e ancora è alla x. In questo caso però essendo una composta prima riscrivo tutta la nostra esponenziale ma poi devo andare a derivare quello che c'è in testa l'esponenziale che è un prodotto. Quindi verrà 4 la derivata della prima parentesi per il logaritmo di x meno x alla terza così com'è più la prima parentesi 4x più 1 e adesso derivo prima il logaritmo 1 fratto il suo argomento e poi moltiplico per la derivata dell'argomento 1 meno 6x quadro. Anche qui potremmo fare un po' di conticini e mettere a posto le cose bene. La prima cosa da osservare è che il primo fattore prima della parentesi quadra io posso per la catena di uguaglianza scritta sopra riscriverlo esattamente come il testo iniziale del mio esercizio e poi posso sistemare un attimino meglio all'interno della parentesi quadra gli altri fattori. Questi due l'ho scritto in arancione e sono uguali. Potrei fare un pochino di conti, potrei raccogliere un numero però riscriviamola semplicemente mettendo insieme l'ultima parte quindi a numeratore il prodotto di quelle due parentesi e a denominatore x meno 2x alla terza. Non è qui che mi interessa sistemare le frazioni. Ultimissimo esercizio andiamo a vedere y uguale a una radice terza su due piani. Prima deriviamo la radice terza e quindi la formula mi dice 1 fratto 3 per la radice terza di quello che c'è sotto così com'è elevato al quadrato per deriviamo quello che c'è sotto radice che è una frazione quindi linea di frazione deriviamo il numeratore quindi 8x che moltiplica il denominatore x alla terza più 1 così com'è meno riscriviamo il numeratore e deriviamo 3x quadro il denominatore. Sotto ci ritroviamo il denominatore al quadrato. Ovviamente quella prima parte è un po' bruttina quindi cerchiamo di portare tutto di nuovo su due piani quindi un terzo che moltiplica la radice terza ma inverto ovviamente il numeratore col denominatore quindi abbiamo numeratore x alla terza più 1 al quadrato sotto radice terza e poi come denominatore il 4x2 più 4 per la nostra frazione. Qui potrei semplificare ulteriormente dividere la radice terza sui due piani e semplificare col denominatore. L'importante è che avete capito i vari passaggi e i ribaltamenti delle frazioni che vengono messe a denominatore. Con questo abbiamo finito nel prossimo video affronteremo una cosa molto importante che sarà nei punti di non derivabilità rimanete con me se vi è piaciuto mettetemi un like seguitemi e vi auguro buona matematica